segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tra l'altro è riuscito a collegare con noi lorenzo cremonese ne sono felice perché ho visto che aveva grandi difficoltà è in donbass lorenzo inviato come sapete del corriere della sera che ci ha raccontato tutto il conflitto dall'inizio lorenzo raccontami come siamo messi a che punto siamo qual è la situazione oggi darci un po di è tornato nella zona più calda della guerra no sono qui nella zona di bakhmut dove l'unica zona di fatto dove russi dopo le sconfitte degli ultimi tempi come continuano ad attaccare tra l'altro ci trovate un attimo scossi perché hanno sparato da molto vicino sono cadute delle delle bombe bakhmut in questo momento sotto un intensissimo bombardamento parlavo poco fa con un con due militari con due ufficiali dell'arma antiaerea delle unità della contraerea che naturalmente hanno quindi la visione con i droni con una sorta di visione del fronte e dicevano che si aspettano nei prossimi giorni un intenso attacco non solo sulla donbass ma su tutto il paese vedono concentrazione di aerei missili e come se la russia si stesse preparando per una grossa operazione di offensiva sul paese quello che posso testimoniare che bakhmut ancora tiene ma si stanno addirittura preparando gli ucraini all'eventualità di averla perdere stanno preparando le seconde le terze linee attorno alla città proprio perché ci sono moltissime vittime ci sono tantissimi morti tantissimi feriti sui due fronti che disastro scusami ma tutto il tema della bombardamento delle centrali elettriche questo inverno ucraino che rischia di essere al buio e al freddo mi spiega anche questo ah beh certo allora io arrivo da chi è che bene o male a chi è dopo i grossi bombardamenti di due settimane fa e poi d'inizio di ottobre era una città che era caduta nel momento era piombata nel buio in qualche modo riusciti a ripristinare e riusciti a ripristinare parte del riscaldamento delle linee elettriche soprattutto sono arrivati moltissimi generatori la città a me ricorda molto l'ho anche scritto ricorda molto beirut il bagdad addirittura kabul degli anni difficili c'è veramente una un fiorire di generatori da tre parti quindi vuol dire anche inquinamento aria sporca puzza di gasolio a tutte le le parti poi venendo qua da dnipro cioè dal centro del paese sono ancora 200 chilometri piano piano venendo verso ieri sera arrivando nel donbass è tutto buio ci sono pochi generatori soltanto ai benzinai soltanto negli ospedali in qualche edificio pubblico ma io veramente sono arrivato io ho dormito qui a drusivka che è una cittadina è un villaggio qui attorno completamente buio non c'era nessuna luce sono candele luci elettriche luci con le con le batterie ma era tutto buio allora io vorrei ecco